Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, soprannominato pinturicchio da Gianni Agnelli, si è segnalato, sin da giovane come uno dei maggiori talenti della sua generazione ed è considerato tra i migliori giocatori nella storia del calcio italiano. Capitano della Juventus dal 2001 al 2012, con il club torinese ha vinto numerosi trofei a livello nazionale e internazionale, segnando in tutte le competizioni a cui ha partecipato e stabilendo i primati societari di reti e presenze, 705. Inoltre è al decimo posto per reti segnate in serie A, 188, a pari merito con Alberto Gilardino e Giuseppe Signori. L'imminente crisi di coppia è arrivata nel 2008, tre anni dopo il loro matrimonio. Non sono state rilasciate molte dichiarazioni, ma un fatto in particolare ha dato la certezza della loro rottura. Durante un soggiorno in Italia infatti, Sonia soggiorna a Torino, mentre Del Piero sembra scegliere Milano. La decisione della coppia non è passata di certo inosservata. Questo periodo sembra durare un bel po' di tempo, ma per fortuna, sembra che Sonia e Alex riescano a chiarirsi. I grandi cambiamenti, l'arrivo di tre figli e diverse incomprensioni hanno sicuramente portato la coppia ad allontanarsi. Tuttavia l'amore stavolta sembra più forte di qualsiasi situazione incompresa. Quelli che allora erano neosposi, avevano alle spalle un amore di 19 anni, non di certo un giorno. Ad oggi la coppia sembra vivere in armonia, assieme ai figli. Il vero motivo della loro crisi non si saprà mai, ma non è così importante. In fondo anche stavolta l'amore ha trionfato.